Nei primi tre mesi del 2024 sono già stati registrati 20 interventi della polizia locale a seguito della segnalazione di incidenti stradali nel territorio comunale di Montesilvano. L'ultimo intervento degli agenti risale alla giornata di ieri, quando Vincenzo Matteucci, 49enne di Montesilvano, in procinto di recarsi al lavoro, è deceduto sul lungomare di via Aldomoro nei pressi dell'incrocio con via Livenza, dopo essere stato tamponato a bordo del suo scooter e poi investito da un'auto che transitava nell'altra corsia. All'indomani dell'incidente, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, restano i numeri troppo alti dei sinistri registrati sugli oltre 8 chilometri di riviera tra Pescara e Montesilvano, dove, statistiche alla mano, i dati sono destinati tristemente a crescere, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, che determina un afflusso di vacanzieri sul lungomare congestionando la viabilità. Nel 2023 gli incidenti registrati a Montesilvano sono stati in tutto 204, con un incremento del 42% rispetto al 2022, 148 i feriti accertati, di cui 24 pedoni, e 368 i veicoli coinvolti. Tra le cause, l'alta velocità, la guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, ma soprattutto la distrazione, causata nella maggior parte dei casi dall'utilizzo dei telefoni cellulari alla guida, come spiega il comandante della polizia locale di Montesilvano, Nicolino Casale. I numeri dicono che nel 2022 abbiamo avuto un altro incidente mortale sul lungomare, nel 2023, ringraziando il Dio nulla, a fronte di 28 incidenti che si sono verificati, quelli perlomeno rilevati dalla polizia locale, quindi adesso questi numeri vanno analizzati e soprattutto vanno prese dei provvedimenti. La città di Montesilvano ha già cominciato ad avere nuovi accorgimenti. Abbiamo inserito almeno 7-8 attraversamenti pedonali illuminati sul lungomare che accendono quando un pedone si avvicina alle strisce pedonali e ne fa richiesta. Chiaramente nelle ore notturne aiuta e non poco. Nella ricostruzione dell'incidente di ieri c'è stata sicuramente una fatalità inevitabile, però è vero che la distrazione è spesso e volentieri causa di incidenti anche mortali. Certamente sì, purtroppo l'avvento dello smartphone ha fatto di nuovo aumentare il numero dei morti sulle strade e il numero degli incidenti. Purtroppo tante, troppe persone usano il cellulare mentre sono alla guida. Il problema è che tanta gente chatta, scrive, quindi è distratta. Guardate, possiamo guardare adesso, se vediamo 10 macchine che passano, almeno 3 sono al cellulare. Io ritengo che sia una delle cause fondamentali dell'aumento degli incidenti e della distrazione.